Edizione speciale di ingresso libero questa sera alle 21, condotta in studio dal direttore di Telemolise Emanuela Petescia. Tra i principali temi in discussione, la variante Omicron che già divide le opinioni degli addetti ai lavori, la possibilità che possa circolare anche nella nostra regione, la vaccinazione da estendere bambini e l'ipotesi attualissima di renderla obbligatoria per tutti i cittadini. Si parlerà anche della terza dose in fase di accelerazione e dell'eterna polemica tra aperture e chiusure, restrizioni e rispetto della libertà personale. Una parte del programma accenderà i riflettori sul percorso di umanizzazione degli ospedali, duramente messo alla prova dalla pandemia, con il racconto di chi ha perso i propri cari senza poterli riabbracciare nemmeno una volta. L'abbandono degli ammalati nelle stanze degli ospedali è stata sicuramente una delle conseguenze più tristi della pandemia. Si parlerà infine delle teorie antiscientifiche e di un'altra pandemia a volte nefasta, quella delle fake news diffuse dai social network. Ospiti della trasmissione in studio, in collegamento dalle diverse postazioni di Telemolise, Giancarlo Ripabelli, docente universitario e responsabile del Comitato Tecnico Scientifico Covid per la Regione Molise, Daniele Colucci, giudice della Corte d'Appello di Napoli, il direttore dell'ASRE Moreste Florenzano, Don Benito Giorgetta, parroco della Chiesa Santimoteo di Termoli, Italo Marinelli, dirigente medico di pediatria, Lucio Pastore, direttore dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Ferdinando Veneziale di Sernia, e il geriatra Ammino Dentizi, direttore e consulente di RSA per anziani. I telespettatori potranno intervenire attraverso una piattaforma WhatsApp attrezzata per la trasmissione. Appuntamento dunque con lo speciale ingresso libero questa sera alle 21.